Noi vogliamo mandare un saluto immenso a tutte le bambine dagli occhi belli, ai loro genitori e all'associazione Airet. Per noi è un po' come avervi vicino grazie a queste belle sciarpine che ci avete mandato, fatte con le vostre manine. E per sostenere l'associazione, che cosa potete fare? Basta che andate sul loro sito e comprate queste bellissime sciarpe. Eh sì, è Natale, no? Possiamo fare un sacco di regalini. Allora, bellissime, dolcissime creature, siete delle guerriere, dovete combattere, noi vi siamo vicini, vi vogliamo bene e vogliamo augurarvi a tutti un grandissimo e bellissimo Natale!